Oggi sono particolarmente arrabbiato, particolarmente arrabbiato, perché siamo passati, Dio, siamo passati da la più grande soddisfazione stagionale alla più grande delusione stagionale nel giro di 72 ore. Cioè, l'Ipsi a Juve è stata davvero una partita che dici quanto te la sei andata a prendere, quanto te la sei meritata. Juve-Cagliari è stato esattamente il contrario, ma è stato il contrario per tante cose. Cioè, la Juve solitamente fa un primo tempo brutto e un secondo tempo in crescita. Qui facciamo l'opposto. Abbiamo fatto, credo, uno dei migliori primitempi stagionali. E' davvero il peggior secondo tempo della stagione. Il secondo tempo del genere non è francamente accettabile. Tu eri, in totale, oltre il 100%, veramente, oltre il 100% dominio della partita. Oltre il 100% dominio della partita. Dal punto di vista delle occasioni, dal punto di vista del ritmo, dal punto di vista dei passaggi. Tutto. Tutto. Tu sei andato in vantaggio e sei andato completamente a distruggere quella che è la strategia del Cagliari. Il Cagliari si presenta con sei difensori. I quattro dietro più due terrestri che fa gli esterni alti. Con una sola idea. Vado a chiudere completamente gli spazi per mettere in difficoltà la Juve. Bene, tu ti procuri un calcio di rigore e dopo un quarto d'ora sei andato completamente a disintegrare quella che era la strategia del Cagliari. Il Cagliari si ritrova sotto, a Torino, in trasferta, partita difficile, eccetera, 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 con sei difensori in campo. Si è andato a distruggerlo. Ha avuto mille occasioni da gol. Un'occasione da gol. Ha avuto dopo dodici secondi dal gol di Blaovic. Con Meyners che tra le linee, veramente pochissimi metri fuori dall'area di rigore, aveva tutti e due gli esterni che stavano attaccando dentro e ha deciso di calciare. Ha calciato male. La palla è andata alta. Cioè, tu di occasioni per distruggere completamente la strategia del Cagliari ne avevi tantissime. E chiudi un primo tempo con l'85-80-85% di possesso della palla, con dodici-tredici tiri totali, di cui cinque in porta, con un solo gol segnato su rigore e hai sprecato tantissimo. Tu sei andato a prendere tutta la partita, l'hai messa dentro un pacco tipo Amazon, l'hai chiuso con lo scotch, l'hai dato al corriere, il corriere l'ha portato a Nicola e hai completamente creato la partita perfetta per Nicola. Dopo avergli distrutto la strategia, l'hai impacchettata e l'hai consegnata. Perché lui cosa fa? Ti toglie i terzini, ti mette i giocatori freschi di corsa, eccetera, eccetera, ti porta dove vuole lui, e cioè una partita che, dominata dalla Juventus finché vuoi, ma ancora in bilico, con tutte le frecce nell'arco che poteva giocarsi. Al di là di questo, noi ci siamo completamente disuniti. Noi oggi, per la prima volta, ci siamo sciolti come neve al sole. Dal punto di vista dell'atteggiamento, poi arriviamo agli errori individuali, però bisogna farne un'analisi generale, perché oggi per la prima volta ci siamo sciolti come neve al sole dal punto di vista dell'atteggiamento. Primo tempo dominato, ci siamo specchiati nel fiume, che belli che siamo, siamo meravigliosi, siamo fantastici, ci va bene così. Abbiamo vinto in trasferta l'ipsa, l'abbiamo fatto nelle difficoltà, eccetera, eccetera. Però, no, siamo forti. Umiltà. Umiltà. Perché i belli, bellissimi, a me piace quando lo fate, ma lo fate quando siete in vantaggio, i belli bellissimi. I belli bellissimi. Perché il calcio è uno sport in cui, se le partite sono in bilico, a pochi minuti dalla fine, le piccole che sono venute lì, hanno fatto la partita peggiore del mondo, meritano di prendere 25 gol, ma non li hanno presi, poi si ritrovano lì, che basta un episodio e le ribalta. Stereotipo della partita di calcio, della grande contro la piccola, con la grande che domina e la piccola che subisce e la grande che non la chiude. Perché tu non hai chiuso la partita, al di là di tutto quello che c'è stato dopo, negli ultimi minuti, tu non hai chiuso la partita, hai avuto mille occasioni da gol per distruggere la partita, per chiudere la partita, far ritornare a casa con la coda tra le gambe, far ritornare intimoriti in campo. Se tu non chiudi le partite, ed è un peccato, è un peccato perché questa è stata una partita stradominata all'Aventus nel primo tempo, tu non puoi tornare in campo nel secondo tempo pensando che la partita sia chiusa. Lo dicevo in live, a fine primo tempo c'era già la gente che mi sta a dire, allora i cambi cosa facciamo? Ehi piano, 1-0 per noi, dominata, ma chi se ne frega chiudiamola. Una volta chiusa andiamo a pensare ai cambi, perché è peccato, davvero il primo tempo a me è piaciuto tantissimo, tantissimo. Però tu non puoi non chiudere le partite, poi arrivi ovviamente agli episodi, perché queste partite qua, che sono in bilico e non sono chiuse, gli episodi sono quelli che poi vanno a determinare. Però con i se, noi sai cosa facciamo? Ci giochiamo a biglia in spiaggia con i se, non possiamo fare un'analisi calcistica, è ovvio che li dobbiamo mettere dentro perché sono avvenuti, però non può essere questo. Oggi ci sono stati tre episodi da parte di tre calciatori che hanno determinato il risultato per forza di cose, perché Vlaovic non può fare i gol con un tasso di difficoltà 500 e sbagliare i gol con un tasso di difficoltà 1. Cioè deve imparare a fare i gol facili, santo Dio, un attaccante deve vivere dei gol facili, porca di una miseria. Quella palla lì me la mette dentro, cioè non esiste nel mondo che tu possa sbagliare quella palla lì, non è proprio accettabile, è una cosa inaccettabile che tu mi vada a sbagliare quella palla lì, perché significa davvero aver staccato completamente la testa della partita pensando di averla vinta. E Vlaovic è quello che quando la Juventus va sotto di un uomo, Alipsia, e c'è il rigore, va sotto anche di un gol, dice la vinciamo. E allora bisogna essere cattivi anche quando la stai vincendo la partita, non solo quando sei trascinato dall'emozione, che è una cosa bellissima, è un pregio quello di Vlaovic, però bisogna rimanere dentro le partite anche quando sei in bilico, quando le stai vincendo 1-0, perché noi per la prima volta non siamo riusciti a chiuderla. Perché? Perché io ho notato nel secondo tempo questo senso di squadra appagata, di squadra che si è accontentata. Avete visto cosa abbiamo fatto l'altra sera? Avete visto che primo tempo che abbiamo fatto? Benissimo, benissimo, eccoci, siamo noi, siamo la Juventus. No ragazzi, non funziona così. Questa deve essere una bella sberla in faccia che ci andiamo a prendere a mano piena, così deve farci male. Dobbiamo avere proprio il segno della cinquina in faccia. Deve essere una roba che la prossima partita che torniamo in campo, adesso c'è sta maledetta pausa nazionale che veramente non ci voleva in questo momento, non ci voleva questo risultato negativo, perché questo è un risultato negativo, una partita buttata via, anche al netto di quelli che saranno i prossimi impegni, che saranno tosti, perché ottobre sarà un mese tostissimo. Andatevi a vedere il calendario della Juve. Ottobre sarà un mese tostissimo. Questa cinquina in faccia, stampata in faccia, deve farci male, deve friggere. Ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo essere incazzati con noi stessi, con noi stessi, con noi stessi. Non venite a me a dire l'arbitro, il rosso, il rigore. No, perché se tu mi sbagli quel gol a porta vuota. Quel gol lì a porta vuota. È colpa tua. Non è colpa di nessuno, è colpa tua. È colpa tua, stop. Va bene, è andata bene. Ok, il Cagliari comunque non è pericoloso. In area di rigore. In area di rigore, con un gol di mantagno. Ma che cos'è quell'intervento lì di Douglas Lewis? Ma stiamo scherzando, ma è una roba che non si può vedere. Oh, ma che cosa gli è venuto in mente? La palla era già lontanissima. Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Ma perché? E poi se mi vengono a dire... Poi la gente mi viene a dire, però Diago Motto lo fa giocare poco. Ci sarà un motivo se lo fa giocare poco, eh? Ci sarà un motivo. Questo qua mi sembra un po' scollegato dalla realtà in questo momento, eh? Io l'altro giorno vi... Allora, secondo me Douglas Lewis è un giocatore molto forte. Ha delle capacità tecniche meravigliose. Forse è uno dei giocatori con più capacità e più talento della Rosa della Juventus. Ma questo non basta per essere un calciatore forte. Questo non basta. E allora se Diago Motto non lo fa giocare, è giusto così? E se questo vuole ritagliarsi lo spazio, deve smettere di giocare per fare il tunnel, deve smettere di giocare con il no-look, deve essere concentrato saldo dentro la partita. Quelle robe lì le fai sul 3-0, sul 4-0, quando sei in totale dominio. Non quando la partita è una cazzo di battaglia. Non era un campo da gioco, era un campo da guerra. Era una trincea. Era una trincea quella roba lì. Ma che cosa gli viene in mente di fare quell'intervento santo cielo? Ma non ha veramente un minimo senso logico. Un minimo. Un minimo senso logico. E poi c'è l'espulsione di Consensao, che, perdonatemi, per me è giusta. Per me è un'espulsione giusta. Perché è ovvio che nell'emotività della partita, nella sfera che si crea dentro la partita, tu dici, senti, sai cosa facciamo? Hanno appena fischiato un rigore. Era già il secondo. C'è caso che questo arbitro possa anche essere largo. Io ci provo. Però siamo unito. E tra l'altro è una munizione per un fallo stupidissimo quella di Consensao. Il primo giallo di Consensao è stato un fallo veramente molto stupido e ingenuo di Consensao. Consensao. Il regolamento sulle ammunizioni per simulazione è molto grigio, perché si va nella sfera soggettiva. Quindi può non capitare. Però ormai lì la frittata era già stata fatta. Cioè non è nemmeno quello l'episodio chiave della partita. Gli episodi chiave sono il gol sbagliato da Blauic e il rigore di Douglas Lewis. E mi dispiace, mi dispiace per Tiago Motta. Io sono molto dispiaciuto oggi per Tiago Motta, perché l'allenatore ha fatto molto bene il suo lavoro nel preparare la partita. Ha messo giù una formazione molto interessante. Le trame di gioco erano avvolgenti. La Juventus ha dominato la partita. Però se con Menerso sbaglia quel gol nel primo tempo e la Juventus chiude con cinque tiri nello specchio della porta e fa un gol. E nel secondo tempo sbaglia un gol a porta vuota. L'ultimo minuto prima del novantesimo, prima del recupero, giocatore con la palla lontana, fa un fallo del genere. A me dispiace veramente tanto per l'allenatore, perché la partita l'aveva preparata bene. La partita l'aveva preparata bene. E mi dispiace veramente per lui, perché oggi lasciamo per strada due punti che erano fondamentali al netto della vettoria del Napoli l'altra sera. Che ha anche sofferto tanto contro il Como, ma i tre punti se li ha portati a casa. Questi sono passaggi, sono tasselli, ragazzi sono tasselli, sono tasselli di crescita mentale, non tattica. Tatticamente la Juve per me è già ad alto livello. Ma se poi torna in campo e si specchia su se stessa, allora vuol dire che qui non ci sei. Qui non ci sei, non è fattore di anni, età, giovani, eccetera, eccetera. Perché la Juventus con i giovani ha fatto bene. Per dire, faccio un esempio, Savona ha fatto una gran partita, anche quel cartellino giallo che prende Savona, un cartellino giallo intelligente. Perché la Juventus, quello lì era già un primo segnale, la Juventus era già disunita, era già saltata lì la Juventus. Non stava più difendendo di blocco, non stava più difendendo tutti insieme. La Juventus ha ballato tanto al di là del rigore del Cagliari, ha sofferto tanto le ripartenze del Cagliari. Sei caduto all'interno della trappola di Nicola. E tutto questo perché non sei stato bravo a chiuderla. Perché mentalmente eri già proiettato al bene. Eccoci qua, un'altra grande partita della Juve. Chiudete ste cazzo di partite, perché se non chiudi alle partite non possiamo fare sti ragionamenti. Li possiamo fare dopo, se ci riusciamo, se siamo bravi ad andare sul lungo, allora dopo quei ragionamenti li possiamo fare. Prima ovviamente no. Forza Juve anche in un giorno molto molto negativo. Il risultato è solo che negativo. E sono due punti che hai buttato veramente nel bidone dell'indifferenziata. Ciao ragazzi.